tic a 2 giri perché quelle vedete questi video non riesca a farvi molto bene ok l'incidenza è di pacca ma guarda mia mamma mia stavo per sbattere contro la colonna vedete i risultati che è un barbicchi a piedi ok attacca 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 acciunti nuovo io aspettavo e che dati come si diverte e andiamo andiamo a fare questi giri bellissimi colonne una, due, tre tantissime colonne ci stanno in questo sto facendo questa è una foglia una bici a piedi non mi sembra mai di fare una bici a piedi non mi sembra non mi sembra che ho fatto due minuti di ritardo racconta miglio mi sembra che ho fatto due minuti di ritardo mi sembra che lo vedo lo vedo ciao 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 ciao